Buongiorno, siamo con l'architetto Fazzini, responsabile dell'unità didattica Corso Nebosch IGC, perché ci racconti i contenuti dell'unità. Allora, l'unità si compone in tre diverse parti, IGC1, IGC2 e IGC3. La prima unità di IGC1 è sostanzialmente l'applicazione di un sistema di gestione al controllo della sicurezza. La seconda parte si occupa nell'analisi dei rischi e delle misure preventive sui luoghi di lavoro, trattando tutti i rischi e le possibili soluzioni a livello di gestione. La terza parte è sostanzialmente una prova pratica che i candidati nel corso fanno a casa, non in aula, nell'applicare un caso di studio di un sistema di gestione applicato alla sicurezza con l'analisi dei rischi e le relative misure preventive. Questo corso permette di ottenere una certificazione ed un'abilitazione per operare come safety manager a livello internazionale. Sostanzialmente con questo certificato chi lo acquisisce può esercitare questa attività di safety manager in qualsiasi parte del mondo senza dover sostenere alcun esame o alcun accreditamento da parte dello stato ospitante in cui lui va ad operare. Questa certificazione permette l'ingresso immediato da parte di chi l'ha acquisita nel mondo del safety a livello internazionale ed è la porta d'ingresso per acquisire un'ulteriore certificazione da parte di chi vuole approfondire in modo molto importante la tematica per ottenere il diploma NEVOSH. La cosa importante e peculiare di questo corso e di questa certificazione è che dà effettivamente la possibilità concreta a chi ottiene questa certificazione di operare all'estero in quanto è un accreditamento effettivamente riconosciuto senza alcun vincolo. Grazie, se ricordo bene ci sono anche ore aggiuntive che valgono per l'aggiornamento CSE e CSP. Ok, con poche ore aggiuntive si possono ottenere gli aggiornamenti come CSE e CSP, RSPP, modulo A, B e C anche perché il corso NEVOSH non è che sia un corso staccato dalla normativa italiana il corso NEVOSH non individua come il decreto legislativo 81-2008 delle responsabilità e di conseguenza delle misure nei confronti della persona di cui era responsabile ma è un corso operativo dove il candidato impara ad individuare i rischi e le misure preventive e come gestire queste situazioni. Pertanto, aggiungendo appunto a questo corso le tematiche specifiche relative alla responsabilità e alle conseguenze che il candidato ha nella gestione della sicurezza in Italia riesce ad ottenere questi aggiornamenti. Benissimo. Già stato parecchio esotivo però se vuoi aggiungere qualcosa sugli sbocchi professionali che questo corso permette? Ma gli sbocchi professionali che questo corso offre sono sicuramente sbocchi a livello internazionale soprattutto nel paese in forte emergenza in forte sviluppo mi viene da pensare tutto il paese del medio list quali possono essere l'Arabia Saudita gli Emirati Arabi ed il Qatar in cui c'è una forte richiesta di queste professionalità. Benissimo. Niente, quindi una panoramica sugli argomenti trattati e sugli sbocchi professionali ci sono altre aggiungere due parole altre questioni per cui questo corso è di particolare interesse che non siano già stati... Ma io ritengo che sia di particolare interesse perché può completare in modo concreto la formazione di una figura professionale quale ingegnere architetto la completa imparando ad operare in un modo sistemico riconosciuto a livello internazionale che gli dà effettivamente sbocchi concreti lavorativi. Ecco, e mi sembra che tra l'altro Sicurcantiere, di cui tu sei titolare sia l'unica società oggi in Italia certificata per fare questo tipo di... Allora, oggi è stata accreditata anche un'altra società di Roma Sicurcantiere è stata la prima ed è l'unica titolata a fare corsi anche a lunga distanza. E' stata la prima Oggi siamo due Piano piano, chiaro Però non... Benissimo Grazie Gerolamo Prego Grazie, arrivederci Grazie a tutti